Ho già fatto partire, grazie. Allora, intanto benvenuti a tutti. Oggi come da programma siamo con il dottor Alberto Fiorito e l'idea è quella di parlare di intestino. Giusto Alberto? Il nostro secondo cervello? Come l'intestino? Io me l'ho preparato sulla milza. Mannaggia! Va bene, va bene. Allora, ciao a tutti. Anche in questo caso facciamo che sia una cosa interattiva. Interattiva però non significa che avete il microfono a disposizione e che potete entrare quando volete perché se no facciamo un macello. Ma direi che io parlerò per un po' di tempo, vediamo, quando vedo che diminuisce lo share mi giustisco e nel frattempo voi potete o mandare delle domande in chat e io se riesco a sbirciarle vi rispondo subito oppure aspettare la fine. Io non ho particolari impegni questa sera, non devo uscire, quindi tutto sommato un po' mi posso trattenere. Informale significa che pensavo di prepararvi anche delle slide, però le faccio io, guardate. Slide numero uno, intestino libero. Questo è un libro che ho letto. Slide numero due, igiene intestinale. Insomma, e ce ne ho un sacco di libri. O ne ho raccolti qui, che tra l'altro non è la libreria tecnica come ho in studio, ce ne ho trovati una decina. Bene, l'intestino perché? Perché è un organo fondamentale, è un organo che mi ha sempre interessato, mi ha sempre colpito, mi ha sempre incuriosito. Devo dirvi che mi ha sempre fatto ridere perché a me nella storia, di quello che posso ricordarmi, le due cose comiche che mi hanno sempre fatto impazzire dalle risate sono Quando la gente si spaventa e poi tutto quello che nasce dall'intestino, colorito, rumoroso, quello che volete, insomma, mi ha fatto ridere. E poi dopo tanti anni mi sono ritrovato a fare l'idrocolonterapia e quindi capite che è stato veramente un percorso, direi segnato. Recentemente, non so se ci avete fatto caso alla battuta che era sulla presentazione, perché è una cosa che mi è venuta proprio per questa conferenza. Stavo pensando, immagino che più o meno abbiate tutti sentito che l'intestino viene definito secondo cervello E questa è una scoperta scientifica importante in realtà, nel senso che viene definito secondo cervello perché possiede una sua innervazione, ovvero dei nervi che lo autoregolano, senza necessariamente che questi siano in collegamento con il cervello reale. Quindi ci sono delle informazioni che dal cervello arrivano all'intestino, delle informazioni che dall'intestino arrivano al cervello e invece informazioni che nascono a livello proprio intestinale e si fermano lì. E siccome piano piano, sempre più approfonditamente si è scoperto che poi l'intestino produce i neurotrasmettitori e poi produce la serotonina e poi produce di qua, insomma alla fine la scienza è arrivata a questa grande scoperta. L'intestino funziona come un secondo cervello. Che in realtà se ci fate caso alla parola in-test, c'era già scritto in-test, quindi non ci voleva sta scienza per capire una cosa è in-test e vi avrebbe detto tutto. Ma insomma, che cosa ci vogliamo fare? È un tubo, sostanzialmente un tubo, così si è studiato per i primi passi della scienza. È un tubo che inizia dalla bocca, quindi sappiate che la bocca è già parte dell'intestino. Pensate che i meridiani intestino, grosso intestino della medicina tradizionale cinese, arrivano in questi punti, in questi due punti che sono qui sotto il naso. Anzi, per la verità, qui si incrociano anche, quindi è un meridiano un po' particolare questo. Inizia dalla bocca, finisce l'ano, tutto quello che c'è in mezzo è intestino. C'è un momento di commistione particolare perché la bocca, la faringe fino all'imboccatura della laringe è anche una via respiratoria. Quindi stiamo anche parlando di un qualcosa in comune che non è, non vi deve sembrare strano perché quando siamo una cosetta così appena arrivati alla pancia della mamma, si sviluppano poi pian piano quelli che si chiamano in embriologia foglietti e l'intestino, il cervello, il polmone arrivano tutti dallo stesso foglietto. Quindi la connessione c'è già in partenza. Basta, ora non vi starei a fare una lezione di anatomia tipo intestino, poi cosa c'è qua? Faringe, esofago, stomaco, intestino tenue, intestino crasso che finisce con la parte retale. Poi all'intestino ci sono attaccate delle ghiandole importanti, una delle quali è il fegato, un organo più che una ghiandola, una della quale è il fegato, l'altro è il pancreas, che producono delle sostanze che aiutano il processo digestivo. E vabbè, fino qua. Siamo, diciamo, negli anni, nell'Ottocento, forse anche a metà del Settecento si era un po' vista una cosa di questo genere. Quali sono le funzioni? Beh, se la vogliamo dire, visto che ho citato i cinesi, se la vogliamo dire, secondo la tradizione della medicina cinese, è separare il puro dall'impuro, ovvero prendere quello che ci serve, sminuzzarlo fino nei più piccoli dettagli, assorbirlo e quindi far passare all'interno del sangue quelle sostanze che poi potranno servirci per X funzioni. Tutto quello che non ci serve o non può entrare nel sangue, mettete, per le sue dimensioni o per il fatto che non ci serve, viene portato avanti dato un impasto alla popolazione batterica che può o mangiarselo e produrre delle sostanze che li aiutano a vivere, aiutano a vivere i batteri e ci fanno un servizio, per esempio, producendo vitamine, oppure diventa cacca, feci, prodotto di rifiuto. Lo eliminiamo attraverso le feci. E questo, insomma, il discorso della produzione di feci sminuisce un po' il valore, ma provate a immaginare questa incredibile magia che avviene quando noi mangiamo panino, prosciutto e mozzarella, oppure due ceci con il riso, e da lì, grazie all'intestino, arriviamo alla molecola di glucosio, all'amminoacido arginina, oppure all'acido grasso. Cioè, tutta una operazione di sminuzzamento che, a mio parere, non ha dell'incredibile, ma ha del magico. È proprio una cosa molto bella. È molto, molto in sintonia con tutto il resto del corpo. Ecco, un grande errore culturale che è stato fatto negli ultimi, forse, 100 anni della medicina, magari un po' meno, 80 anni della medicina, è quello di voler settorializzare tutto. È l'intestino, è il crasso, è come funziona la colecisti, io mi occupo solo di quello, eccetera. In realtà dovete sapere che tutti gli organi sono interdipendenti. È proprio una sorta di, anche noi, come tante strutture, siamo una rete, una rete di informazioni in cui un'unghia che non funziona non può coinvolgere nel suo non funzionamento la milza o il naso o l'orecchio. Ecco, insomma, siamo un tutt'uno e naturalmente è facile spostare il discorso al di fuori del nostro corpo, così come noi dentro siamo un tutt'uno tra le varie componenti del nostro corpo. Il nostro corpo è un tutt'uno con l'ambiente, quindi capite quale sia la nostra responsabilità. Bene, all'interno dell'intestino noi abbiamo degli ospiti che si chiamano batteri, ma in realtà ci sono anche virus, funghi, spesso anche dei parassiti, ma la popolazione più rappresentata è quella dei batteri. Allora, magari se vi posso chiarire qualche idea, perché tante cose si sentono dire, uno magari le dà per scontate ma non le riconosce poi, i batteri vengono identificati sotto il nome di microbiota. E quando si parla di microbiota si intendono tutti i batteri del nostro corpo. Quindi sulla superficie delle nostre mani noi abbiamo dei batteri, inevitabilmente, non perché siamo sporchi o poco igienizzati, abbiamo dei batteri, bene, quello è il microbiota. Poi, se volete definire i batteri dell'intestino dovete dire microbiota intestinale. Quando sentite parlare di microbioma, non è che sia proprio sbagliato, diciamo che il microbioma si riferisce, la disidenza OMA si riferisce più che altro alla componente genetica di questi batteri, però diciamo il modo corretto, il modo corretto, un po' figo per chiamare, eh io so, 10 batteri per ogni cellula, quindi in teoria potremmo parlare di 600 milioni di miliardi. Sono più le cellule batteriche del nostro intestino che le cellule che compongono il nostro corpo. Naturalmente è stata avanzata l'ipotesi che potessimo noi essere gli ospiti oppure gli ospitati dell'intestino, però insomma queste filosofie lasciate perdere. Vi dicevo, l'intestino, la nascita, è in particolare con il parto eutocico, che significa il parto che viene fatto per le vie naturali, tant'è che dopo che si è scoperto questo, al bambino che nasce con parto cesareo per asciugarlo e pulirlo vengono usate le pezzette che si usano per pulire la madre perché comunque il microbiota iniziale più bello che ci possa essere è quello che gli deriva da mamma e quindi quello che lo mantiene, mantiene ancora attiva questa simbiosi. Poi si sviluppa, si sviluppa perché le colonie batteriche si moltiplicano a una velocità immensa, eccetera, e si sviluppa in funzione di quello che mangiamo, quindi ancora una volta vorrei ricordare, se non l'ho fatto in altre occasioni, che l'allattamento al seno è l'ideale per un bambino e soltanto quando veramente non è possibile che allora dobbiamo ricorrere ad altri strumenti, ma l'allattamento al seno è fondamentale e piano piano si sviluppa anche per quello che mangiamo nella normalità, come ci svezziamo, eccetera. Tutto questo si chiama eubiosi intestinale, cioè dopo un po' di anni, dal terzo in poi, forse ogni età ha la sua giusta quantità di batteri, quello che dovremmo raggiungere è uno stato che si chiama eubiosi intestinale. Eu significa più o meno bene e quindi eubiosi è il termine che indica. Io ho queste mille colonie batteriche, in realtà potrebbero essere addirittura 3.000, ma 1.000 se ne conoscono, che sono nel corretto rapporto tra di loro. Quando io prendo dei farmaci, mi tratto un po' male dal punto di vista alimentare, un'alimentazione monotematica o delle patologie, naturalmente, allora mi arriva quella botta generica che si chiama disbiosi intestinale. Quindi la disbiosi è un'alterazione del rapporto che le colonie batteriche hanno tra di loro nell'intestino e che, devo dirvi così, non vorrei che ci rimaneste male, ma è la nostra condizione ideale, insomma, normale, nel senso che trovare uno che è in eubiosi, un adulto che sia in eubiosi è veramente, veramente difficile perché mangiamo storto, mangiamo troppo, ci muoviamo poco, beviamo poco o forse beviamo troppo, ma altre cose. E quindi è facile che il nostro intestino... Pensate, c'è un lavoro scientifico abbastanza interessante e, se volete, un po' drammatico che dice sono sufficienti due settimane consecutive di antibiotico-terapia in un adolescente o in un pre-adolescente per mandare in disbiosi permanente il suo intestino, che è una iattura, anche perché, insomma, due settimane, ahimè, di antibiotico, ormai toccano più o meno a tutti. Magari adesso si sta un po' più attenti, devo dirvi. Negli anni 80, 90 e 100 era un casino. Adesso forse stanno un pochettino più attenti all'uso indiscriminato degli antibiotici. Se aprite il vostro capanno dei farmaci, come si chiama il capanno degli attrezzi, la cassetta, e trovate lì dentro una scatola di antibiotici con tre pezzi che vi erano avanzati dalla precedente terapia, vuol dire che anche voi siete responsabili di questo disastro alimentare. Quelli li dovete smaltire in farmacia il più presto possibile. Non si prendono antibiotici, vi dico l'acronimo ACDC. Se qualcuno vuole intervenire, tradurre, che cosa significa ACDC, sarebbe proprio la cosa peggiore. Quindi buttateli, non vengono bene o buoni per la prossima somministrazione. Questa informazione è stata data anche ai medici, tenetelo presente, perché spesso nel dubbio uno dice, vabbè, che è che io gli dava, ma io gli do l'antibiotico. Quindi nel dubbio il medico sbagliava. Ora, devo dire, si sbaglia un po' meno. E la condizione di disbiosi è sostenuta dallo stile di vita. La condizione di disbiosi è sostenuta dallo stile di vita significa che se io mangio poche fibre, il principale errore della nostra alimentazione. Se io bevo poca acqua, se mi muovo meno di quanto dovrei, se mangio cibi raffinati in eccesso, se mangio proteine animali di cui non conosco la provenienza, insomma, se mangio in maniera un po' distratta, tutto questo non fa che contribuire ad alimentare determinati batteri, a farne soffrire degli altri e a far perdere loro il rapporto corretto. Bene, non voglio ritornare sull'alimentazione perché mi ripeterei, per cui ritorniamo dentro l'intestino. Questa disbiosi intestinale, sostenuta da questi, lasciate perdere se uno ha una patologia X, questo è un caso a parte. Se la disbiosi intestinale è sostenuta da abitudini poco corrette dal punto di vista alimentare, le conseguenze sono, ecco, le volete classificare, chiamiamole visibili e invisibili. Quelle visibili sono l'alterazione dell'alvo, ovvero l'alterazione della frequenza dell'intestino, della qualità del lavoro intestinale, di quante volte facciamo la cacca nella settimana, insomma, per intenderci, di come la facciamo, di quanto puzza, di quanto carta igienica dobbiamo utilizzare, di quello che succede nel nostro intestino proprio come sofferenza, emorroidi, raga di anali, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il visibile. L'invisibile è invece che all'interno dell'intestino si crea una sorta di infiammazione costante che crea dei danni di cui noi non ci rendiamo conto perché sono dei danni a lunga scadenza, a lunga scadenza. Diciamo, il principale, quello che mi piacerebbe vi rimanesse impresso, è la perdita della capacità filtrante dell'intestino. Mi spiego. Metto la diapositiva numero uno. Questa è una cellula intestinale, d'accordo? Lo vedete? Questi sono i villi e qui praticamente i villi assorbono il cibo. Qui sotto, questo diapositivo numero due, il mio avambraccio è il sangue. D'accordo? Questa, diapositiva numero due, è la seconda cellula intestinale. Vedete? Questi villi servono a filtrare, ad assorbire il zucchero, il grasso, eccetera, eccetera, e fanno entrare soltanto le microproteine. Tra una cellula e l'altra c'è una struttura che le tiene così unite e così impermeabile che qui dentro non passa niente. Vedete? E questa è la giunzione serrata. Ok? Bene. Quelle cose di cui vi ho parlato prima, ovvero mangiare cibi sbagliati, idratarsi poco, avere una disbiosi intestinale perché si sono usati dei farmaci, essere infiammati, essere sotto stress, nel tempo, a livello intestinale, rompe queste giunzioni. E quindi, attraverso queste cellule non più perfettamente aderenti, passa di tutto. Entra nel sangue, va al fegato, il fegato per quello che può fare lo pulisce, qualcosa la butta al rene e la butta fuori, altre cose le nasconde da qualche parte e piano piano il nostro corpo si sporca, si intossica, si rende, vi dico una parola, però non la dovete dire a nessuno perché è una parolaccia, invecchia. Invecchia. perché spende parte della sua energia invece che fare le pulizie di casa, pulire i vetri, emettere che tutti siamo bene, li spende per buttare le tossine, nasconderle, eliminarle, mangiarsele, eccetera, eccetera. Quindi, facciamo dei passi indietro. Una disbiosi intestinale sostenuta da un'alimentazione così, eccetera, eccetera, disidratazione, stress, metteteci tutto quello che volete, provoca a livello intestinale, può provocare, ma ahimè, provoca sempre più frequentemente, la perdita della impermeabilità della parete intestinale, l'ingresso nel nostro corpo di batteri, se volete, qui entrano dei batteri, non in grado di farci un'infezione del sangue, ma per esempio, molte cistiti vengono dal tentativo di liberare il nostro corpo da questi batteri. E tossine, magari cibo non digerito, che passano e il nostro corpo veramente non sa che cosa farsene. Quindi, abbiamo detto due tipi di conseguenze. Una, chiamatela macroscopica o evidente alterazioni del transito intestinale, l'altra meno evidente. La prima si realizza molto rapidamente e la seconda si realizza nel tempo. Questa è un'osservazione molto importante. Perché? Perché chi non fa la cacca tutti i giorni, o chi la fa male, o chi la fa con quelle caratteristiche che vi ho detto prima, avrebbe la possibilità di rendersi conto sul momento di qualcosa che fra X anni diventerà un problema. e questo, credetemi, è un esercizio di attenzione nei confronti del nostro corpo che, da medico, avendo a che fare con decine di pazienti, eccetera, mi rendo conto che è difficile. Mi rendo conto che è difficile. Non vi voglio giustificare, ma mi rendo conto che è difficile. Cioè è difficile dire scelgo oggi di non mangiare quel pacchetto di patate fritte perché fra vent'anni quello mi provocherà il prurito all'alluce sinistro. Ma cacchio va! Uno dice, vabbè, poi si pensa, magari sono fortunato. Che non sarebbe un errore, attenzione, se quel pacchetto di patate fritte fosse l'unico errore. ma siccome noi gli errori ne collezioniamo un centinaio al giorno e sono buono oggi perché oggi è San Gaspare del Bufalo, ma voglio dire ne collezioniamo tanti nell'arco della giornata, capite che alla fine noi creiamo quella situazione che nella prima chiacchierata ho chiamato terreno. Ovvero creiamo nel nostro corpo quella condizione in cui se il virus influenzale mi avesse sfiorato me lo sarei mangiato con gli spaghetti invece magari mi lascia una settimana di raffreddore. Cioè riduciamo l'elasticità del nostro corpo e la sua capacità di reagire. E chi ce lo dice questo? L'intestino. Ora, per carità, non vogliamo dare tutti questi meriti a questo organo, a questo particolare organo nel nostro corpo, però il bello di questo intestino è che lui si fa sentire, quindi ci avvisa, ci avvisa e ci dà anche delle buone idee, tipo per esempio mangiamo dei muscoli o delle cozze come li volete chiamare, questi qui erano un po' infetti o li abbiamo lavati male o li abbiamo fregati nel posto sbagliato e il giorno dopo ci viene la diarrea, grande intestino, ci avvisa con un malfunzionamento che abbiamo fatto un errore di qualche genere. Bene, d'accordo, poi però deve andare a posto e diamogli, mettiamo acqua e limone al mattino, un probiotico, anzi, 3-4 probiotici al giorno per 4-5 giorni, però poi deve andare a posto. Se invece la caca non si fa, quando andiamo in bagno non si può entrare in casa per 3 giorni, la notte è tutto un rumorio, un concerto, la pancia, oh, questa è diffusissima e ci alziamo con la 42 e andiamo a dormire con la 44-46, nel senso che ci gonfiamo nell'arco della giornata, ebbene, sono tutti segnali che qualcosa non va bene e dovremmo intervenire. Oh, per forza, per forza, non ce ne può fare a meno, nel senso che è fondamentale proprio sapere rispettare questi segnali. È come se uno dice ho la febbre, ho la febbre, allora stavo per dire prendo la tachipirina, non se prende la tachipirina con la febbre, vabbè, insomma, ho la febbre, mi metto a letto perché ho la febbre, bene, quello è immediato, ho l'intestino che non funziona, devo fare qualcosa perché altrimenti questo poi può diventare un problema. Cosa fare? Mi state chiedendo? Bene. Non vorrei ripetermi, però vi dico se una paziente o un paziente mi si presenta per un problema di stipsi cronica ostinata, già va bene perché ne è consapevole. Spesso mi arrivano pazienti che ci hanno che so la dermatite seborroica e quando gli chiedo come vanno di intestino dice vabbè, io ci vado una volta ogni 15 giorni. La dermatite seborroica ti dà fastidio, l'intestino scioperante no, vabbè, comunque. Quindi mi viene con la stipsi cronica e io gli devo rimettere a posto questo intestino. Ovviamente capirete che le prime cose che mi faccio dire sono le sue abitudini alimentari e se volete stabilire una una classifica la prima cosa che dovete tenere presente è che mi preoccuperò delle sue fibre, ovvero di quanta frutta, verdura o cereali integrali mangia nell'arco della sua giornata. Tenendo presente che questo lo sanno tutte fibre, uno si piglia le fave di fuca, l'altro la crusca, l'altro si prende i biscotti e i cinque cereali, se la va a coscienza non funziona mai niente, ma insomma così. La novità e la cosa originale che vi dico è occhio alle fibre, nel senso che quando sono troppe non è che va bene, nel senso l'intestino ha bisogno della giusta quantità. Quanta è la giusta quantità? Ma in linea di massima a me non piace dare i numeri, quindi non ve li darò però 30, 40, 50 grammi, più o meno stati intorno ai 50 grammi, ci sono le donne che ne dovrebbero mangiare un po' di più, gli uomini un po' di meno perché ci hanno questa, sapete che gli uomini hanno due neuroni che fanno così con la testa e partono, no? E allora se li usano per partire e fare un pensiero l'intestino funziona perfettamente. Sto scherzando? Sto scherzando? Ha subito sentito qualche voce di uomo che si è. Quindi attenzione perché le poche fibre sono un disastro. Le poche fibre sono... Mi siete mai chiesti perché si dice sempre così? Uno dice perché la fibra costituisce la massa fecale. No signore, la massa fecale è costituita per secondo me più del 50% da batteri. Va bene? Quindi volete vedere cos'è un batterio o vi procurate un microscopio clamoroso che mi costerebbe un po' troppo oppure guardatevi la cacca. Metà di quello che vedete sono batteri. Magari non lo distinguete, non li potete chiamare per nome, eccetera, eccetera, però quelli sono i batteri. e quindi le fibre avrebbero come primo compito quello, sì è vero, di in parte costruire la massa fecale, ma sono importanti perché danno da mangiare ai batteri. Infatti, le fibre si chiamano come secondo nome prebiotici. Prebiotici sono il cibo che il batterio preferisce per potersi sentire in forma e quindi poi e siccome siamo abituati per negli ultimi 3-4 milioni di anni ci siamo abituati a mangiare quelle cose, quindi l'insalatina, il ravanello, la mela, piano piano nel tempo queste sono le fibre che ci siamo abituati a mangiare, allora i buoni batteri che in questo lungo periodo hanno stabilito questo patto di simbiosi con il nostro corpo, cioè di collaborazione preferiscono mangiare quelli quindi gli date un riso integrale loro lo riconoscono perché sono milioni di anni che se lo mangiano e e vi fanno del bene gli date un riso raffinato al quale abbiamo aggiunto un po' di crusca di mais un po' di crusca di peperone arrostito un po' di crusca lo confezionano in un bel pacchetto che attira la vostra attenzione il batterio quello non lo riconosce lo schifa e di conseguenza il bene che vi doveva portare non ve lo apporta quindi va bene costituiscono feci massa fecale ma la cosa principale che dovete tenere presente è che le fibre e soprattutto le fibre che ci hanno costruito storicamente non quelle che compriamo in farmacia o al supermercato servono per dar da mangiare a questa popolazione batterica e poi c'è una terza ragione per cui si dovrebbero mangiare le fibre le fibre si devono mangiare perché quando noi mangiamo fibre mettiamo una specie di diapositiva numero 5 questa è la parete intestinale quando ci arriva una massa di cibo che abbiamo insieme con la molecola di glucosio di zucchero ci arriva anche la fibra quindi la fibra si mette in mezzo tra l'assorbimento dello zucchero e lo zucchero stesso e quindi ne rallenta l'assorbimento questo fa in modo che quando noi mangiamo pane e cioccolata la cioccolata è uno zucchero che probabilmente entrerebbe immediatamente nel corpo ci farebbe schizzare l'insulina il diabete la cosa è un disastro ma il pane integrale di vero grano o di vero cereale ne rallenta l'assorbimento se però la cioccolata la mangiate col pane bianco fatto di farina raffinata in cui la fibra è totalmente scomparsa aggiungete danno al danno quindi fibre è il primo il primo intervento ma l'eccesso non va bene immaginate per esempio di avere un problema di questo genere no? cioè di avere la stipsi e su sull'enciclopedia medica moderna ovvero su facebook leggete che dovete mangiare le fibre se 50 grammi fanno bene 100 grammi faranno meglio nel frattempo la stipsi che è dovuta ad altre cose vi metterà in condizione di non far passare avanti le feci il transio quindi al blocco che c'è normalmente che magari è un blocco funzionale voi ci aggiungete una mappazza di insalata riccia e di cose come si chiama di finocchio sapete che quello c'ha le fibre di sedano che il sedano fa dimagrire al loro e vi viene una cosa che per toglierla ci vuole la famosidrica quindi non si risolve un problema esagerando con un ipotetico beneficio ma ovviamente si prende funzionalmente il tutto bene detto questo a proposito dell'alimentazione poi non mi dilungo sulle restante parti comunque le fibre va bene e l'altra cosa toglierei il raffinato cioè quando parlate di fibre io preferisco dire che so invece di dire mangia verdù 5 7 8 porzioni di frutta e verdura al giorno eccetera per esempio l'idea di poter mangiare ogni giorno una porzione di cereali o integrali o semi integrali e per cereali intendo riso orzo farro grano saraceno chinoa miglio avena maix teff amaranta ghilla cavolita non vi fate problemi nella versione semi integrale fanno anche un po' prima cuocere quindi tutto sommato non dovete stare a perdere troppo tempo ebbene quello già è una buona cosa ci mettete un buon come si dice una verdura magari cotta la sera è meglio se volete aiutare l'intestino e siamo a posto non proprio però per partire con delicatezza per farlo ripartire al secondo posto ci metterei l'acqua laddove si formano le feci e dove nascono i problemi è il colon d'accordo? ovvero nell'intestino l'ultima parte lunga circa così più o meno la vedete ovvero sarà lunga un metro e mezzo due metri che vi devo dire il colon è la parte dove l'intestino tenue scarica le sue feci in forma liquida e quindi è difficile che nel piccolo intestino si formino dei fecalomi se si formano sono razzi ecco diciamo nel senso sono problemi l'intestino crasso o colon ha il compito di riassorbire dell'acqua e quindi piano piano indurisce le feci e le rende così compatte poi queste si depositano nel retto dopo un po' vi daranno lo stimolo di andare in bagno ecco il colon ha il compito di riassorbire l'acqua e naturalmente anche la quantità di acqua che avete nel corpo non è che abbiamo nel corpo non è indipendente dall'unghia che ci fa male o dal naso che ci prude siamo tutti collegati quindi ci sono dei sistemi che in funzione di quanta acqua beviamo dicono cercate ragazzi là sotto cercate di recuperare l'acqua e quindi il colon asciuga asciuga le feci e le feci diventano sempre più dure e sempre più piccole allora cosa succede succede che feci piccole che non premono sulle pareti intestinali fanno in modo che l'intestino rallenti e funzioni meno bene e così nasce la stipsi o è un altro modo per farla nascere quindi correzione bevete acqua la giusta quantità di acqua è i calcoli non si fanno perché mezzo litro nell'arco della mattinata mezzo litro nell'arco del pomeriggio un bicchiere d'acqua al mattino al risveglio bello grosso e un bicchiere d'acqua la sera prima di andare a dormire se in mezzo ci mettete delle tisane dei caffè americani delle camomille dei tè va bene purché non usiate lo zucchero in tutto quello che vi ho detto lo zucchero si usa il meno che sia possibile sicuramente non si usa lo zucchero per farci del bene nel senso se vi fate una tisana perché vi volete idratare ci mettete tre cucchiaini di zucchero non vi idratate non vi lasciate perdere quindi queste cose lo zucchero non si usa quindi ripetete primo posto un'alimentazione corretta che possa contenere più fibre ma non troppe e meno farine raffinate e meno zuccheri raffinati al secondo posto ci mettiamo l'idratazione terzo posto e lo so che qui non sarete d'accordo per cui ora lo guardo 66 dovrebbe calare di qualche unità il movimento il movimento è fondamentale per 102 o 103 ragioni una delle quali è per far funzionare l'intestino movimento se volete è soltanto come esoccussione quando uno salta ball balla perché il ballo è movimento o corre eccetera poi perché si respira e quindi il diaframma che è un muscolo che quando inspiriamo lui si abbassa e quando espiriamo lui si alza questo massaggio intestinale costante nel movimento diventa un pochettino più frequente e lo aiuta poi nel movimento voi sudate e così come si disperde temperatura sudando verso l'esterno si suda anche verso l'interno cioè le pareti intestinali restituiscono un po' di liquido alle feci le feci diventano un pochettino più più morbide e quindi direi che è imprescindibile poi ci sono le altre 101 ragioni per cui il movimento fa bene ma questa è è fondamentale volete anche la quarta secondo me istintivamente dovreste rispondere di no ma ve la do l'altra modalità di far lavorare l'intestino è ridurre lo stress e qua torniamo alla parola intestino intest ok l'intestino ha un suo cervello e come tutti i cervelli maschili e femminili è bizzarro è molto sensibile e quindi se noi abbiamo un problema lui lo sa e a volte lui è il primo a rendersi conto di questo problema e guardate che c'è una una strada che sta prendendo l'attuale scienza o almeno quella di cui mi occupo io che questo collegamento tra stress intestino e salute lo rende molto chiaro molto evidente vi dico soltanto questo il noi abbiamo dodici nervi che si chiamano nervi cranici perché nascono direttamente dal cervello o dal tronco cerebrale mentre i nervi spinali passano dentro la colonna uno di questi si chiama nervo vago ed è incredibile proprio incredibile è una cosa spaziale questo va fin passa dietro agli occhi qui sulle carotidi e poi nel cuore ci rallenta o ci velocizza la frequenza cardiaca e poi nel polmone poi vanno cioè mette in collegamento tutto quello che che sono le funzioni del nostro corpo se volete giusto per focalizzare l'attenzione quando vi dicevo che tutto il corpo è in contatto per cui l'unghia incarnita ti fa venire il prurito al naso o i capelli oppure lo starnuto bene il vago è uno dei principali responsabili di questo di questo mettere insieme le cose e lui innerva in particolare l'intestino pensate che è un nervo che per l'80% porta le informazioni verso il cervello e soltanto per il 20% porta le informazioni dal cervello verso la periferia bene il vago fa parte di un network che si chiama sistema nervoso vegetativo o autonomo cioè sostanzialmente lui è abituato il sistema nervoso in generale a reagire indipendentemente dalla nostra volontà indipendentemente dal cervello perché tiene d'occhio la situazione in giro e ci avvisa se un posto è sicuro una condizione sicura o meno sicura se avverte la condizione non sicura per la nostra esistenza per la nostra sopravvivenza eccetera eccetera lui il sistema nervoso autonomo si attiva in una certa maniera per esempio si attiva il sistema simpatico quello che ci fa aggredire il nemico o scappare dalla tigre e disattiva il sistema parasimpatico di cui il vago fa parte e allora tutte le funzioni che fanno di pertinenza di questo nervo vengono messe da parte vi faccio un esempio per cui vi posso chiarire e vi farò un esempio che riguarda proprio l'intestino se voi dovete scappare da un incendio d'accordo può essere che vi dite no scusa devo andare a fare la cacca il fuoco non è che dice che aspetta d'accordo e allora che succede succede che questa non necessità di andare in bagno è relativa al fatto che una struttura nervosa si è organizzata nell'arco dei milioni di anni per farci rallentare fino a scomparire lo stimolo fecale nel momento in cui la nostra casa brucia dove sta il problema sono sicuro che l'abbiate già pensato e che la nostra casa brucia è l'esempio più eclatante meno meno probabile della parola stress quindi laddove io devo reagire a una preoccupazione un pericolo una minaccia alla mia sicurezza una minaccia alla sicurezza della mia prole eccetera eccetera attivo quei sistemi nervosi che mi mettono in condizioni di reagire rapidamente e disattivo quegli altri che sono preposti a funzioni che non mi servono in quel momento per cui chi è stressato non non paga eh cambia una consonante eh chi è stressato non paga questa me la scrivo perché secondo me quando quando sono davanti alle persone qua scatta scatta l'applauso chi è stressato non paga ok quindi direi che possiamo fermarci a questi quattro perché sono i macroscopici alimentazione corretta che contenga la giusta quantità di fibre pochi alimenti raffinati la giusta idratazione il movimento e il lavoro sullo stress il lavoro sullo stress non è un lavoro contro la gente stressogeno quindi non potete non stressarvi andando comprandovi dodici estintori per andare contro il fuoco il lavoro contro lo stress lo si fa a favore dell'eustress cioè a favore del benessere quindi vi potrà sembrare paradossale ma avere il tempo per fermarsi e cantare una canzone oppure leggere una poesia oppure meditare pregare eccetera eccetera lavora proprio perché quegli elementi che caratterizzano la nostra vita la rendono stressogena possano farci meno male perché evitare il male però farci meno male è l'obiettivo a cui dobbiamo te ultimo passaggio poi poi do spazio alle domande sia a voce che per iscritte che per iscritto cicero prodomo sua vi voglio portare nel mio studio perché io nel mio studio utilizzo uno strumento di tortura che si chiama idrocolonterapia e allora prima di arrivare a quello vorrei dirvi l'intestino va pulito e che cosa significa va pulito che la via naturale per pulirlo è fare regolarmente i propri bisogni questo regolarmente chiariamoci significa almeno tre volte alla settimana quindi chi la fa giorni alterni è tranquillo non più di tre volte al giorno perché se no c'è un problema di tipo opposto confeci compatte devono essere di si chiamano formate quindi non devono essere né troppo dure né troppo né splatte quelle che non hanno una forma di per sé teoricamente ma molto teoricamente questo dimenticatevela se no poi ci sono delle conseguenze negative non ci dovrebbe essere bisogno di usare la carta igienica che significa che le feci non dovrebbero sporcare l'ano così come non dovrebbero sporcare la carta igienica non succede vabbè ma insomma questo mi sembra esagerato e l'odore l'odore deve essere compatibile con la sopravvivenza dei vostri coinquilini quindi non tutto quello che è cattivo odore è il risultato di una cattiva masticazione digestione e scelta alimentare quindi questo è un po' quello che deve succedere bene questo si ottiene con almeno quei quattro principi che vi ho detto se così non fosse e comunque nel prevenire un'alterazione intestinale voi dovete lavarvi l'intestino e i metodi per lavarvi sono semplicissimi ai bambini si fa la peretta tu direi una volta al mese e tutte le volte che stanno male tutte le volte che stanno male un bambino è un corpo perfetto ancora non inquinato quindi a parte condizioni di sfortuna che per carità non è il caso neanche di trattare in questa sede ma quando c'ha la febbre quando c'ha un dolore decrescita eccetera eccetera sono cose banali bene si comincia sempre da un lavaggio rettale la peretta per tutte sia per questa che per la prossima che vi dico la peretta si può fare o con quelle sostanze comprate in farmacia ma io ve lo sconsiglio oppure con una una camomilla che fate ci mettete se volete un cucchiaino d'olio e poi la usate nella maniera che immagino conosciate l'adulto indipendentemente dal fatto che stia male o meno dovrebbe fare una volta ogni due mesi va perché vi voglio bene oggi mi sento in buona un enteroclisma ovvero scusate che ho una comunicazione di servizio da parte della regista facciamo finta lasciate perdere enteroclisma che cos'è si va in farmacia questa volta si va in farmacia si compra una busta di quelle che si appendono la doccia la si riempie con un litro e mezzo di camomilla usate tre bustine e aspettate che si raffreddi o che arrivi alla temperatura giusta dopodiché vi mettete sdraiate nella vasca da bagno magari ci mettete un asciugamano perché oppure per terra ma insomma è una posizione comoda la sondina va messa dove penso immaginate e lasciate scorrere piano piano quest'acqua quest'acqua è difficile da trattenere le prime volte perché si tratta di un litro e mezzo che deve andare laggiù uno dice già la posso fare quindi perdonatevi se a metà dovete alzarvi altrimenti cercate di resistere una ventina trentina di secondi questo lava il retto e il sigma ok quindi l'ultimo mezzo metro di intestino se volete siccome stiamo parlando stiamo parlando temendo il cancro del colon retto capite che già questo è un bel lavoro che si può fare e poi al terzo posto con una frequenza variabile l'idrocolonterapia l'idrocolonterapia è brutto a dirsi soprattutto la prima volta poi quando le persone vengono si rendono conto che non è non è questo disastro che poteva sembrare e quindi lo fanno con una sorta di irregolarità l'idrocolonterapia consiste nell'immissione nell'intestino di una qualità di acqua che aiutata da un massaggio va a lavare tutto l'intestino tutto il colon non l'intestino e quindi lava anche il colon trasverso sapete che io sono il colon vediamo un pochettino la mia mano sinistra è il colon discendente qui c'è il retto questo è il colon discendente appunto questo è il trasverso e questo è l'ascendente nell'ascendente qui ci si infila l'intestino tenue con una valvola di non ritorno quindi se siamo bravi a fare l'idrocono laviamo fino alla flessura a destra scusate alla zona del ceco dove c'è l'appendice insomma che ci viene l'appendicite e questo direi che se ben fatto si può fare se mangiate come in altre occasioni vi ho raccontato una due volte l'anno se mangiate come una volta spenta la registrazione andate a mangiarvi e i taglialini e la pasta raffinata il pane eccetera eccetera anche quattro volte l'anno anche ogni tre mesi io ho dei pazienti che per forza di cose per un loro diciamo rapporto con l'intestino particolare e vi dico che sono tanti sono almeno una decina ogni mese si fanno l'idrocolo e alcuni di questi sono diventati dipendenti dell'idrocolo come se fosse una droga nel senso che in questo periodo che non posso lavorare sono quelli che mi telefonano più frequentemente dottore come fate per farlo funzionare perché mi chiederete perché bisogna lavare l'intestino beh sostanzialmente vai con la diapositiva numero 5 diapositiva numero 5 questa è la parete del colon d'accordo nelle parti alte è possibile che lungo la parete si stratifichi un po' di cacca feci materiale fecale che riassorbito diventa aderente alla parete è quella cosa che quando vi fanno la colonoscopia e avete preso il purgante in maniera sbagliata vi dicono l'esame è stato effettuato fino al colon trasverso poi non è stato più possibile per cattiva igiene non è che siete sporchi ma è semplicemente che le feci durite aderenti alla parete non sono riuscite ad essere staccate ebbene sotto tra la parete dell'intestino e la cacca si forma una zona ideale per la crescita di batteri di cattiva qualità infiammazioni costanti e diciamo infezioni perché come potreste accorgervi di questo intanto per la stipsi perché immaginate che questa parte dell'intestino sia coperta da feci e indurita questa non spinge più quindi piano piano si crea una stipsi e secondo perché grazie al cielo i nostri batteri ci danno una grande mano quindi qualche volta riusciamo a non fare la cacca per sei giorni consecutivi e poi crisi di arroica cioè si è sviluppata una popolazione batterica che è stata più forte dell'occlusione e che ha provocato lo smaltimento dei rifiuti tossici beh quindi questa è la principale ragione per cui si fa a proposito dell'idrocolono immagino che ci siano anzi ho sbirciato ci sono già delle domande sull'idrocolono sappiate che chi lo denigra dice porta via anche i batteri buoni tecnicamente si dice cazzate non date retta primo perché nessuno che ha esperienza di idrocolon ne parla male tutti quanti lo vediamo facendone io ne farò una quindicina settimana vedo risultati quindi non potrei mai parlarne male chi dice una cosa di questo genere in vita sua non ha mai fatto un idrocolon e non ha mai visto come funziona l'idrocolono un paziente è un voglione voglione mi sembra una cosa di questo genere nel senso è uno che ha le voglie di protagonismo capito un voglione perché altrimenti se parli devi parlare perché hai avuto esperienze in tal senso una delle esperienze sbagliate vi toglie i batteri totalmente io gli vorrei dire però poi se glielo dico lui non viene da me come paziente ma vai a non è vero non ha assolutamente nessun senso questa affermazione concludendo prendetelo in considerazione il vostro intestino trattatelo bene vogliategli bene perché in effetti da lui ora lasciate perdere le malattie le malattie dimenticatevele poi magari se qualcuno ha dei problemi ne parliamo ma le malattie dimenticateve è proprio che essendo un secondo cervello e avendo tante occasioni per funzionare male è sensibile e allora gli dovete parlare lo dovete lo dovete coccolare lo dovete trattare bene ecco trattare bene come 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 vorreste che lui trattasse vuoi dimenticavo di dirvi una cosa a proposito della pulizia dell'intestino perché in questo gruppo avete avuto una conferenza in questo senso anche il metodo Gerson è un metodo molto molto bello ed importante va saputo fare le prime volte va imparato da parte di chi veramente lo sa fare però credete che potrebbe risolvere un sacco di terapia per chi non avesse seguito le conferenze il metodo Gerson consiste in un'alimentazione particolare e un lavaggio intestinale anche utilizzando non soltanto acqua ma caffè in una certa maniera perché il caffè pulisce le vie epatiche in una certa maniera però ecco ci tenevo a citarlo perché è una cosa molto molto importante bene 19 regista che facciamo io intanto guardo un po' di chat direi che ci sono già un po' di domande in chat io continuerei con le domande scritte che così evitiamo di aprire i microfoni se qualcuno avesse necessità di parlare ha facoltà di auto togliersi il muto ma se uno ha avuto questi problemi in passato senza saperlo poi una volta che si cambia il stile di vita si migliora o non ci sono speranze si migliora al 100% io ho visto persone cambiare la loro esperienza di vita lavorando per carità non sull'intestino e basta però lavorando sul proprio stile di vita e ottenendo come risultati ecco vi posso dire questo la paziente che mi viene magari donna sessantenne con una stipsi cronica che dice non vengo qui per la stipsi tanto per quella non c'è niente da fare è quella che mi dà più soddisfazione perché in effetti se ha voglia realmente cosa non frequentissima di guarire o di passare a miglior vita ma se nel senso buono del termine e allora vi garantisco che si può ripartire lo stress acuto cronico può modificare microbiota e portare una patologia Enrico ottima domanda la risposta era contenuta nella 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 chiacchierata però ti dico una cosa che ho letto oggi è stata presa una popolazione di topolini che ha come atteggiamento un atteggiamento fisiologicamente depressoide e una invece di topolini che sono iperattivi si muovono eccetera 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 il depressoide è diventato attivo e felice e l'attivo e felice è diventato depresso quindi la risposta è molto più sì di quanto tu possa immaginare può portare a patologia e può influire lo stress sulla composizione del microbiota intestinale il microbiota intestinale può influire sulle modalità con cui reagiamo allo stress quanto spesso all'anno si può fare l'idrocolonterapia in che modo la fai quale macchinario quale liquido usi allora da una volta all'anno ma mi sembra decisamente poco a meno che non sia una persona che mangia in maniera da zero errori a una volta al mese per esempio quando io incontro una stipsi cronica io faccio quattro trattamenti nel giro di due mesi quindi uno ogni venti giorni circa male non fa se non per il fatto che devi venire sottoporti a questa questa pratica un macchinario americano che ho comprato 12 anni fa e di cui sono estremamente soddisfatto questo macchinario consente di inserire nell'intestino acqua ciclo continuo e quale liquido usi quale liquido usi birra whisky certe volte nell'idrocolon dici acqua acqua solo acqua passa attraverso un cono di luce ultravioletti per una sorta di disinfezione ma solo acqua che differenza c'è tra l'idrocoloterapia e le purghe tipo quelle che si usano in preparazione di oncoloscopia sostanzialmente entrambe se fatte per bene funzionano nella stessa maniera la purga è disastrosa per le conseguenze oltre che alimentari e organolettiche anche per quello che succede quindi la purga ti consiglierei di farla e falla io non faccio idrocolon in preparazione di una colonoscopia per non rischiare appunto che il risultato sia negativo e quindi poi gli faccio fare una colonoscopia a vuoto però la purga prendila solo in occasione della colonoscopia che correlazione c'è tra forte intolleranza ai lieviti particolarmente ai lieviti naturali come il lievito mare ad esempio e funzionalità intestinale e Anna questa è una risposta che è difficile a darti nel senso che mi porterebbe via un'altra bella mezz'oretta io non diciamo che l'intolleranza ai lieviti è una parola di per sé sbagliata può essere che alla base di una situazione di quella che mi indichi ci sia una disbiosi intestinale con predominanza dei lieviti quindi funghi tipo candida faccio per dire tanto che se ti mangi un pezzo di pane però poi stai male per 15 giorni o magari prima delle mestruazioni sei calma come un leone appena appunto da una mosca a zezze come prevenzione bere un tazzone di acqua e limone ogni mattino aiuta Diana senti rispondo malvolentieri a queste domande perché se ti dico sì tu ti fai 16 bistecche di manzo uzbeko tutti i giorni bevi tonnellate di whisky e di grappa per come è per idratarti e poi la mattina ti bevi un tazzone d'acqua e limone e ti aiuti e questo quindi non ci sono espedienti anche se ovviamente ti posso rispondere sì bevitelo un bel tazzone di acqua e limone tazzone mi lascia pensare che tu la beva calda calda è meglio che a temperatura ambiente sì aiuta ma non è il presidio che ti garantisce l'eternità quanto sedute si fanno di seguito o in quale intervallo abbiamo già risposto come prevenzione ripetete la domanda perché siete così nervosi che ripetete le domande perché non vi stavo rispondendo ho capito le allergie sono corrate anche al microbiota sì in assoluto sì il discorso è complesso ma io direi assolutamente di sì la menopausa può preggiorare una stipsi già da presente io mangio fibre mi muovo prendo probiotici ma il problema è peggiorato ancora di più dopo la menopausa l'inulina è buona allora la menopausa sì può peggiorare una stipsi già presente non c'è ombra di dubbio l'inulina è buona io prenderei una buona fibra alimentare piuttosto che un integratore a base di inulina però l'inulina è sicuramente buona se fai tutte cose tutte queste cose che hai detto mangio fibre mi muovo prendo probiotici mi muovo è la cosa che mi piace di più mangio fibre bisogna vedere come e quali probiotici bisogna vedere come e quali bene comunque se per caso facendo un certo numero di cose non vedi i risultati lavora anche sulla parte la componente mentale dell'intestino di più non posso dire io bevo io bevo tantissima acqua ho sempre costantemente sete perché senza dire nome c'hai il diabete non è ovvio che devi dare il diabete no sto scherzando non è che voglio portare spiega però voglio dire se la sete è sentite questa la sete è una malattia nel senso è un avviso del nostro corpo che c'è un disequilibrio quindi teoricamente in tutta teoria bisognerebbe bere regolarmente e non perché sia sete come dire c'ho il gomito che mi fa male è infiammato è ovvio bisognerebbe evitare di usare il martello pneumatico tutti i giorni e vedi che non ti infiamma il gomito quindi la sete è un segnale di infiammazione il fatto che tu l'abbia costantemente vuol dire che c'è è un segnale d'allarme che qualcosa non va bene la battuta non era troppo battuta perché è una delle ragioni per cui si beve perché c'è troppo zucchero nel sangue quindi istintivamente cerchiamo di diluirlo con il diabete ma in tutti i casi non va bene a meno che come succede a certi bambini che poi diventano preoccupanti non gli fanno una capa tanto che devono bere 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 che questi prendono l'abitudine a bere anche se non hanno sete e poi si fanno diventa un atteggiamento si può pensare di raggiungere una parvenza di obbiosi senza introdurre costosi integratori ma certamente bisogna mangiare in maniera corretta e si può raggiungere le obbiosi mangiare correre idratarsi quello che vi ho detto un'altra che ha sempre sete il diabete non ce l'ho il reflusso gastrico ma non so se è correlato può essere ora sì in effetti potrebbe anche essere però già avere il reflusso gastrico che secondo me ha tutta una serie di cose ora non possiamo parlare di patologia ma potrebbe essere un segnale di disequilibrio bene mi sembra di aver risposto a tutti regista allora le domande risposto a tutti adesso io ribadisco che non mi sembra furbo ridare il microfono a tutti perché sarebbe traumatizzato tu non lo ridare a tutti però se c'è qualcuno che vuol fare la domanda a voce può togliere può togliere lo togliere in basso a sinistra toglie la sbarretta sul microfono esattamente io posso fare una domanda no mi dispiace hai perso proprio un altro potrebbe essere utile ad altri oh caspita allora falla senti un po' ma per chi non mangia carne non per scelta ma perché preferisce i legumi e comunque le proteine vegetali è una cosa brutta è una cosa positiva ma intendi per il funzionamento dell'intestino o in generale no sinceramente per quanto mi riguarda io ultimamente notavo che il mio corpo quando mangiavo la carne soprattutto la carne rossa non la digerivo cioè mi rimaneva proprio indigetta e quindi l'ho tolta si vede che il mio fisico non aveva assolutamente bisogno della carne e quindi mangio tutte le proteine vegetali è uno saldo? va bene lo puoi fare io diciamo che utilizzo degli schemi alimentari per esempio quello del vegetarianesimo del veganesimo quando ci sono delle esigenze specifiche altrimenti difficilmente mi sentirete io le proteine animali però dopo le mangio ora ti devi spegnere le uova le mani devi spegnere il microfono la domanda l'hai fatta no tanto per dirvi mettere la barretta sulla microfono se no diventa un discorso tra me e non tra me e il resto del mondo grazie diciamo che non uso quindi queste grandi strategie che potrebbero diciamo sconvolgere la vita di una persona a meno che non ci sia un'indicazione clinica eccetera quindi mangiare o non mangiare un prodotto non mi fa una grande differenza non so se avete sentito seguito la domanda dice in prevalenza carne rossa chi mi ha seguito questa deve essere una giovane ragazza che non mi ha mai sentito chi mi ha seguito sa che se mi dici carne rossa e poi magari ti mangi il pollo comprato al supermercato mi fai andare fuori in testa quindi io questa distinzione non la faccio ma il positivo che può servirci di questa di questa giovane ragazza è se voi notate che c'è un cibo che possa essere la carne il pesce o il fagiolo che vi lascia non una volta ma ripetutamente una sensazione strana nel vostro corpo non pensate di essere intolleranti a quel cibo questa è una parola che non vorrei che usaste ma ascoltatelo da qualche parte quel secondo cervello vi sta dicendo senti lascia perdere invece di mangiarti l'orata mangiati il merluzzo oppure invece di mangiarti il pollo mangiati il coniglio se volete o il fagiolo mangiati il cecio nel senso ascoltate il vostro corpo questa è una cosa molto importante altre domande? allora aspetta che Enrico ci chiede per iscritto il microbiota può influire anche il suo esofago stomaco oppure là in alto il microbiota non arriva beh diciamo che c'è questa grossa bomba dell'elicobacter pylori che starebbe a dimostrare che arriva anche in zone dove uno non si aspettava fino a 30 anni fa si pensava che l'ambiente dello stomaco fosse così acido che nessun batterio avrebbe potuto resistere invece poi è venuto fuori questo elicobacter pylori nei confronti del quale vorrei spazzare una lancia nel senso vi trovano positiva l'elicobacter pylori che avrebbe come unico problema ora non voglio sminuire voi ascoltate il vostro medico per carità però il problema di elicobacter è che se avete l'ulcera in una percentuale non trascurabile siamo intorno al 0,2% dei casi potrebbe provocarvi una degenerazione tumorale se non avete l'ulcera prendere 3 antibiotici per magari 15 giorni per combattere e eradicare l'elicobacter di solito è una lotta che fallisce ma il disastro che vi fanno questi 3 antibiotici è tale per cui abbiate un po' di pazienza se non avete l'ulcera lasciatelo stare quindi sì la risposta è anche in zone alte del nostro tubo gastroenterico e peraltro entrando dallo stomaco all'esofago alla bocca il microbiota può influenzare e farci anche crearci anche dei problemi altre domande? Ogni tanto tornano in auge gli ossi uri fastidiosissimi che ne dice? Chi me l'ha chiesta questa cosa qua? Dove l'hai letto? Ah ecco c'è qua 5-5 questo è un carcerato bellissima questa domanda io sono un fan degli ossi uri nel senso che li trovo li trovo abbastanza frequentemente anzi no per la verità li vado a cercare sempre e di conseguenza li trovo abbastanza spesso e do a loro delle responsabilità diciamo di una certa di una certa importanza su delle belle malattie tipo le allergie io se ho una persona allergica guarda 90% lo svermino quindi direi la risposta è sì e quindi se vedete se avete una problematica di questo genere trattatela sentirete sull'enciclopedia medica che vi ho citato prima ovvero facebook sentirete che magari gli ossi uri ci fanno bene quindi devono rimanere nel nostro intestino eccetera eccetera sentirete anche altre stranezze di questo genere il mio personale consiglio questa esperienza covid ci ha fatto vedere con chiarezza che la medicina è un'opinione non è una certezza scientifica il mio personale consiglio è di controllare le feci in particolare dei bambini controllarvi le feci e nel caso vediate una specie di palline biancastre tipo formaggio parmigiano che magari si muovono anche e che sono pruriginose poi magari avete altri sintomi che vi possono far sospettare gli ossi uri fate il trattamento adeguato adeguato attenzione quando gli ossi uri ai tempi della mia nonna si trattavano con le segnature con la ruta con l'aglio eccetera eccetera belli meravigliosi stavi bene per un po' ma non passano così il trattamento va fatto in maniera adeguata è vero soprattutto con i bambini che facciamo li togliamo guardate che il problema non è toglierli perché ci sono dei bambini che sono recedivanti in maniera pazzesca li fanno anche due tre volte nell'arco dell'anno nonostante le mie terapie che sono abbastanza aggressive ma ma vanno tolti vanno tolti e non c'è niente da fare nella maggior parte dei casi il discorso va bene il problema è che a me non viene una persona che mi porta il bambino per gli ossuri una persona mi porta per l'asma per le dermatiti per le allergie per le cistiti eccetera eccetera e nell'ambito della mia ricerca trovo gli ossuri a volte non sempre non faccio faccio miracoli faccio miracoli ma non sempre 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 ecco però quando le persone mi guariscono mi guariscono perché gli ho dato una terapia per la causa e non perché perché ho curato il sintomo anche perché gli ossuri si fanno sentire come specie la sera brava esatta la sera andando a letto è il momento in cui gli ossuri sono proprio al massimo quali terapie consiglia in qualità di medico esperto come mi descrivono spesso in medicina integrata una delle caratteristiche che mi contraddittengo è quella come tutti i medici di questo tipo che non esiste una terapia che vada bene per tutti esiste una terapia che va bene per quella persona non esiste l'ossiuriasi ma quella persona che ha un problema di ossuri 54 persone resistono vogliamo fare delle domande volete che vi legga una poesia è arrivata un'altra domanda nel frattempo me ne frego adesso vi devo leggere una poesia e che l'ho scritta per voi cosa vuol dire che gli ossuri si fanno sentire abbiate pazienza ma non ho idea prudono ti pizzica il culetto e se ti pizzica il culetto hai un'indicazione fantastica lano nella fattispecie spesso spesso il prurito è sulla pelle i bambini sono agitati di notte quindi a volte addirittura sono sonnambuli o comunque parlano nel sonno hanno degli incubi il sonno si superficializza perché gli ossuri gli creano questa sosta di prurito pensate che un altro dei segni è digrignano i denti la notte bruxismo digrignano i denti perché il prurito come se lo avessero qui li costringe a digrignare i denti e e quindi si fanno sentire in questa maniera collegare una patologia alla presenza di ossuri è già un atto medico quindi però insomma se un bambino ti dice papà mi prude il culetto tu devi pensare agli ossuri poi magari ha fatto la caca e non si è lavato e non ti ha chiamato per pulire d'accordo perfettamente però quello è il sintomo il vermox è vero che distrugge la flora batterica no il vermox è il farmaco che io prediligo e ricordatevi che sono uno che prescrive farmaci naturali nella maggior parte dei casi o nutraceutici ma la mia esperienza di questi ultimi 25 anni così è che gli gli ossuri subiscono l'azione del prodotto chimico che per fortuna non viene quasi per niente assorbito o viene assorbito poco dal nostro corpo quindi non è tossico nonostante il foglietto illustrativo del vermox o del combantrin che è un'alternativa siano forieri di terrore eccetera però però io uso spesso quello no Lucrezia se c'hai la micosi è un micete quindi con quello il l'ossuro è un parassita le erbe svizzere fanno male tutto quello che è svizzero fa male la cioccolata gli avvocati i banchieri e le erbe mamma mia questa è una domanda allora la poesia non ve la leggo mi sa sono una persona che va spesso in bagno beata te anche anche quattro anche quattro volte al giorno generoso ma la mattina appena colazione anche se bevo caffè l'attenzione dopo mezz'ora diciamo che devo quasi correre in bagno l'aloe mi regola un po' secondo lei ho qualche altro scusate secondo lei ho qualche altro problema non lo so creatura mia non ti so rispondere il come si dice andare in bagno per esempio la mattina tra le 5 e le 7 è il momento è la morte sua proprio è il momento in cui l'intestino dovrebbe svuotarsi però andarci per esempio per una pulsione cioè nel senso che se il bagno non è vicino te la fai in cucina e allora quello potrebbe essere un po' un po' esagerato se devi correre c'è qualche problema l'aloe mi regola un po' va bene d'accordo l'aloe è un buon depuratore dell'intestino però sì ora ci deve essere qualcosa che non che non torna dopo la risposta sulla zizza vado a far da mangiare grazie fiorito poi questa è Cinzia Lucrezia si vede l'aloe è vero tutte le mattine sto con un po' di digiuno potrebbe essere considerato una pura pulizia del colon no no il caso di stress è il vago che modifica l'attività intestinale del sistema nervoso autonomo il secondo cervello dell'intestino reagisce alla stessa maniera non ho capito questo in caso di stress è il vago che modifica l'attività intestinale sì va bene può e il sistema nervoso autonomo il secondo cervello dell'intestino reagisce alla stessa maniera beh sì diciamo il vago non è un indipendente il vago è una componente del sistema nervoso autonomo e dell'intestino quindi è tutto un insieme va bene la poesia eh lo sapevo va bene va bene allora concludiamo sentite questa è una poesia il cui titolo non vi dico perché lo lascio alla vostra immaginazione poi vi dico il titolo e quindi e poi farete le riflessioni allora inizio con una citazione ho visto cose che voi umani non avete nemmeno osato immaginare ho visto fiumi di lava sgorgare da vulcani ritenuti inattivi ho visto massi imponenti duri come il diamanti e scuri come il dolore rotolare nascendo dal nulla ho visto vortici fluire di sgregarsi con tutto ciò che intralciava il loro cammino e grappoli di animali percorrere sentieri infuocati suscitando pena e lamenti sottili e la terra ribollire e colline intere scomparire cavalieri stanchi e disillusi tornare a combattere leggeri titolo della poesia idrocolon ora se volete ve la rileggo voi pensate idrocolon e interpretate i vari passaggi ho visto cose che voi umani perché voi non avete idea di che cosa si può vedere lavando i vostri intestini la gente non è che si vergogna dell'introduzione della cannonola si vergogna di quello che io scopro ho visto fiumi di lava sgorgare da vulcani ritenuti inattivi perché in effetti uno è più e poi esce tutto massi imponenti duri come il diamante scuri come il dolore perché quando passa quello mamma mia che succede ho visto vortici fluire e disgregarsi con tutto ciò che intralcia il loro cammino perché in effetti tra aria fibre cose questa fa male ve lo dico questo passaggio l'interpretazione di questo passaggio fa male e grappoli di animali percorrere sentieri infuocati suscitando pena e lamenti sottili chi indovina a che cosa mi riferisco all'emorroide e la terra di bollire qui c'è una licenza poetica clamorosa e colline e cavalieri stanchi e disillusi e questo è un attimo momento di speranza cavalieri stanchi e disillusi tornare a combattere leggeri perché vi garantisco che ogni intestino può ripartire e farci sentire bene sembra un girone dell'inferno dantesco grazie era proprio quello che volevo suscitare Francesca stai parlando di mio intestino ti adoro e va bene e questi versi poeti sono più infernali e riconciliatori della divina commedia dantesca lo prendo come un complimento bene allora grazie grazie per la vostra pazienza siete soltanto 41 persone hanno fruito di questo momento poetico clamoroso ma ne parleranno i posteri e grazie per essere stati con con me con noi con l'organizzatrice e questa mantegazza è inutile che mi guardi con quella faccia lo so che sei incazzata perché ti ho tolto la parola ma lo sai che ti voglio bene la registrazione di questo intervento lo potranno poi trovare sui nostri canali youtube stop recording va bene grazie buonasera arrivederci a tutti grazie doc buona serata ciao mari grazie buona serata a tutti apriamo tutti i microfoni ci salutiamo ciao grazie grazie mille grazie mille buona serata a tutti per chi vorrà sabato parliamo di sabato parliamo di digiuno con Cinzia alle tre del pomeriggio con l'ottore cinza ciao 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 a tutti grazie buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti ho trasferito buonasera ciao 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 ciao